Salve ragazze, io sono Daniela, ho 59 anni e sono alla quindicesima settimana di questo fantastico percorso. Sono molto più tonica, ho perso 3 kg, ma questo ragazze l'ho ottenuto dopo molte settimane. Questo per dirvi che tutto ciò si ottiene con molta tenacia e molta pazienza. Devo anche confessarvi che non ho nostalgia del mio allenatore, non ho nostalgia della palestra e quell'ora che mi dedico tre volte alla settimana agisce anche sull'umore. Dunque ragazze vi dico, non mollate, abbiate pazienza e tenacia. I risultati arrivano. Io ringrazio Alessandra e tutto il team che ha creato questa meravigliosa realtà. E con le scapole addotte vi dico, dai ragazze! Al prossimo episodio